Locatelli superstar! Prima di iniziare il video permettetemi di ringraziare i ragazzi di Juve & Me che mi hanno mandato in regalo questa maglietta, soprattutto Raffaello Corvo. Un bacione! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. La Juventus riesce a vincere all'85esimo con un gol di Locatelli il derby contro il Torino in casa loro. Una partita che mi ha fatto un po' annoiare, devo essere sincero. Non è stata una bella partita da vedere, la mia mente viaggiava verso altre cose, non è la classica partita che ti tiene legato lì proprio sul filo del rasoio. Grazie a una giocata fantastica di Locatelli la portiamo a casa. Partiamo dall'inizio. Una Juve che schiera ancora un 4-4-2 con qualche novità. Per esempio, non c'è Bonucci, hanno giocato De Ligt e Chiellini, devo dire che hanno fatto una buona partita. I soliti terzini, Alessandro e Danilo. Centrocampo a quattro con Rabiot largo a sinistra, come al solito. McKennie, Locatelli e Bernardeschi. E davanti Chiesa e Moise Ken. Quello che c'è da dire sul primo tempo è che la Juve ha avuto due palle, due tiri, diciamo così, con McKennie, sparate in curva, clamorosamente. Non abbiamo fatto neanche un tiro nello specchio della porta durante il primo tempo. Già lì si iniziava a vedere una cosa. Glielo perdoniamo. Federico Chiesa non ha fatto una bella partita. L'ho visto molto sottotono, molto stanco. Non è il Chiesa che ci piace, che ci fa godere ultimamente. Ha fatto proprio tutta la sua partita, è stata così. Non ha combinato nulla di interessante, se non veramente una fuga così, ma me la sono già dimenticata mentre ve ne parlavo. Moise Ken, anche qua, nota dolente. Nota dolente perché è stato completamente annullato da Bremer. Ottimo difensore del Torino, veramente. Mi è piaciuto tantissimo questo Bremer. Sostanzialmente Moise Ken ha giocato la sua partita a spalle alla porta, ha sbagliato tantissimi appoggi, tantissimi passaggi. E un'altra cosa che ovviamente poi bisogna considerare del primo tempo, e poi concludiamo il discorso di Moise Ken, è che ultimamente stiamo avendo dei problemi con i passaggi filtranti. Quindi Rabiot, Rabiot ha veramente sprecato un pallone che poteva mettere in porta proprio lo stesso Moise Ken. Sostituito al 45esimo, quindi non benissimo questa cosa. Sostanzialmente è un cambio non tanto per bocciare Moise Ken, parliamoci chiaro, ma per non dare punti di riferimento in attacco. Infatti il buon Federico Chiesa a quel punto è diventato il nostro attaccante, il nostro centravanti, con Bernardeschi ancora in campo e Quadrado. Quadrado è entrato al posto di Moise Ken, che ha sostanzialmente in campo preso il posto di Bernardeschi largo a destra. Mentre Bernardeschi ha giocato un po' alla Dybala, un po' una seconda punta trequartista, diciamo così. Anche Bernardeschi non ha fatto una bella partita, secondo me la scorsa con il Chelsea ha giocato molto meglio. Io cerco di commentarvi questa partita come se avessimo pareggiato, perché fino all'85esimo, ovviamente con l'idea di farvi un video post partita, la mia mente già iniziava a formulare un po' di frasi. Il gol di Locatelli mi ha, non dico sorpreso, però, ovviamente in positivo, però era una partita quasi destinata al pareggio, purtroppo. Non abbiamo tirato in porta tutte queste volte, non siamo stati precisissimi. Io ricordo solo una parata del portiere di Milinkovic Savic, portiere del Torino, cioè il colpo di testa di Alexandro, centralissimo, e una parata di Cesni. Quindi a livello di spettacolo, credo che non sia piaciuta proprio a nessuno questa partita. note positive, il fatto che la Juve per la prima volta dopo 20 partite non prende gol, e quindi un bel clean sheet il primo per Cesni, il primo per la Juventus in campionato, note negative, e qui non posso esimermi, è vero che abbiamo vinto, quindi dovremmo essere tutti contentissimi, però, dato che sapete un po' come sono fatto io, cioè piedi per terra, non siamo straordinari, vedo sempre tanti difetti, siamo in crescita, siamo in crescita, perché questa è la quarta vittoria di fila che facciamo, però ci sono due giocatori che questa sera mi hanno deluso enormemente, uno è Adrien Rabiot, che ancora una volta non fa una bella prestazione, c'ha i piedi che sembra veramente un fabbro del Libano, c'è una roba indecente, non riesce a fare un passaggio filtrante, lui corre, il pregio di Rabiot è che prende la palla e corre, non lo fermano, ma poi non combina nienda, nienda, ok? L'altro, l'altra nota dolente, qui veramente andiamo sul peggiore in campo, è Weston McKennie, Weston McKennie ha sbagliato l'acqua lunque, ha sbagliato i tiri, ha sbagliato i passaggi, ha sbagliato gli appoggi, ha sbagliato i palloni filtranti, non mi è piaciuto per niente, quindi se io devo essere sincero, do la palma, il premio del migliore in campo, MVP a Manuel Locatelli, perché non solo ha segnato e ci ha tolto le castagne dal fuoco, ma ha anche fatto una partita sontuosa, e do ovviamente le orecchie d'asino da peggiore in campo a Weston McKennie. Centrocampo, lo sappiamo, è inutile che ce lo diciamo ad ogni video, sapete anche il mio pensiero, siamo in difficoltà tecnica, in difficoltà di personalità, in difficoltà di qualità, grazie a Dio, ho visto Arthur scaldarsi in panchina, quindi penso che dopo la sosta, potrà essere finalmente schierato in campo come titolare, e a quel punto, penso che il nostro centrocampo avrà una, un po' di aria diversa, un po' di qualità diversa, decisamente, io penso che McKennie e Rabiot in campo nello stesso momento, si vede tanto la poca qualità che hanno. L'ultima cosa, e poi vi saluto e vi lascio alle vostre famiglie, ai vostri amici, al vostro sabato sera, eccetera, nota positiva, perché giusto quando giocano bene i calciatori che non mi piacciono, è giusto dirlo, Dejan Kulusevski, che sapete non amo particolarmente, sto criticando particolarmente, perché lo trovo un giocatore senza ruolo, senza posizione, è entrato benissimo, ha fatto 3, 4, 5 cose molto importanti, molto preziose sul finale di partita, vi dirò una cosa che vi lascerà a bocca aperta. Mi è piaciuto di più Kulusevski di Federico Chiesa questa sera, ebbene sì, ovvio hanno giocato minutaggi diversi, però Kulusevski prende un 6,5, mentre Chiesa prende un 6,5 questa sera. Questo è un po' il mio pensiero, sapete che le pagelle non le faccio più, però volevo dirvelo, perché è giusto che sia così. Nel nostro casino di questa squadra, che insomma, alti e bassi, folate, errori clamorosi, giocatori non particolarmente bravi, qualcuno ce l'abbiamo, Kulusevski è entrato bene, sono contento, e concludiamo il video, è entrato anche Caio Giorgi. Caio Giorgi ha esordito in campionato, ha giocato 4 minuti, niente di che, ha fatto una cosa buona, nel senso che ha preso un fallo fondamentale a fine partita, poi ovviamente la partita era praticamente finita, quindi non c'era molto da dire lì davanti, però sono contento che abbia visto il campo. Ragazzi, godetevi il vostro sabato sera, noi ci vediamo nei prossimi giorni, per video più calmi, con approfondimenti eccetera, noi ci vediamo molto presto, grazie ancora alla community di YouVenMe, che vi invito a seguire, sia qui che sulla piattaforma Viola, cari amici che mi hanno spedito in omaggio la loro maglia, che metterò sicuramente, ogni tanto la lavo però eh, grazie ancora Raffaello, grazie a tutti voi ragazzi, ciao! Grazie a tutti!